Un centro polispecialistico con una task force multidisciplinare di esperti per battere l'HPV, il papilloma virus umano. È la struttura HPV Unity, inaugurata a Roma all'Istituto Nazionale Tumori Reggine Elena San Gallicano e primo centro di questo tipo in Italia. L'obiettivo della speciale unità è la prevenzione, la diagnosi e la terapia, ma soprattutto l'informazione della popolazione, i medici sul virus e sulle patologie correlate. La prevenzione contro l'HPV è fondamentale oggi, le conoscenze che ci promette la scienza medica e al tempo stesso i prodotti e i programmi di depistaggio che sono disponibili ci permettono veramente di aprire una nuova fronte, una nuova battaglia per la eradicazione di tutte le forme oncologiche, di tutte le forme di cancro che derivano dal papilloma virus. Grazie a tutti!